Sensibilizzare i cittadini, specialmente i più giovani, alla donazione del sangue attraverso una corretta informazione sull'attuale fabbisogno della Sicilia. È lo scopo della giornata della donazione organizzata dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana attraverso il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, che nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, a Palermo, riunirà i vertici della sanità siciliana per dare ampio risalto a tutto il sistema trasfusionale che con la sua organizzazione garantisce i livelli essenziali di assistenza. L'iniziativa nasce dall'esigenza di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare il sangue, soprattutto a ridosso della stagione estiva, quando si registra la maggiore carenza di donazioni e di conseguenza la disponibilità di sacche per garantire i livelli essenziali di assistenza e di plasma per garantire la produzione di farmaci salvavita derivati da esso. Ci sarà spazio anche per la sensibilizzazione verso la donazione degli organi. Nel corso dell'evento saranno consegnati attestati di stima e riconoscenza a tutti i volontari che hanno assicurato almeno 150 donazioni di sangue e ai diciottenni alla prima donazione. Con questo scopo è stato chiesto ai direttori dei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale di fornire l'elenco dei relativi nominativi unitamente all'Associazione o Federazione dei Donatori Volontari di Sangue di Appartenenza o al Centro Trasfusionale di Riferimento. L'iniziativa prevede il corso di formazione Sistema Gestione Qualità Raccolta Sangue ed Emocomponenti riservato a tutto il personale sanitario e ai responsabili della qualità delle unità di raccolta capofila e del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale collegato.